E ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia di oggi, come di consueto, anzi dobbiamo dire che rispetto alla puntata precedente che abbiamo dedicato volutamente al tema della violenza sulle donne, torna l'appuntamento con la Galleria degli orrori e parliamo di un altro serial killer, Harry Powers. Abbiamo deciso di titolare quello che poi è stato un famoso romanzo e da cui è stato tratto anche un film, anche se The Night of the Hunter, La notte del cacciatore, ma per quello che è l'immaginario collettivo a proposito di Harry Powers si parla della morte corre sul fiume. Ne parliamo naturalmente con il nostro compagno di viaggio per lo speciale serial killer, il professor Marino D'Amore. Bentornato. Grazie mille, buonasera a tutti. Sociologo della comunicazione all'Università Nicolò Cusano e criminologo, ricordiamo Harry Powers, nato con il nome olandese di Arm Drent, ma noto con altri pseudonimi, Cornelius o puntato Pearson, oltre a A. R. Weaver, nato, lo vediamo nelle foto, il 17 novembre 1893 a Bertha in Olanda e morto a Moundsville in Virginia il 18 marzo 1932. È stato un serial killer olandese naturalizzato statunitense. Facevamo riferimento prima a quanto comunque cinque vittime accertate, ma potrebbero essere molte di più, però ha ispirato sia questo romanzo del 1953 di Davis Grubb, The Night of the Hunter appunto, e poi la successiva versione cinematografica con un mostro sacro di Hollywood, come Robert Mitchum. Sì, è una storia che ha suscitato notevole interesse e soprattutto ha catalizzato quello che ne è stato il racconto prima letterario e poi cinematografico. Insieme a tutte quelle storie noir che hanno arricchito molto l'industria culturale di quel periodo e anche in questo caso la vicenda di Powers si è prestata anche per la sua efferatezza, unita a un'insospettabilità di fondo del nostro protagonista a tale narrazione. È una storia che è piena di colpi di scena, perché possiamo iscrivere anche questo protagonista di questa vicenda all'interno di quella categoria che noi abbiamo coniato, quella dei serial killer a scopo di lucro, perché sulla falsa riga di tanti altri, citiamo l'Andrew Schenk e lo stesso Max Guffler, ha attraverso delle promesse di tipo sentimentale ucciso le sue vittime accaparrandosi poi quelle che erano i loro risparmi e i loro averi. E infatti attirava le vittime attraverso inserzioni personali di cuori solitari, comparse su riviste sostenendo di essere in cerca dell'anima gemella, ma in realtà puntando al loro denaro. Uccise due vedove e tre figli di una di loro prima di essere catturato, processato, condannato a morte e giustiziato all'età di 40 anni. Ma parliamo un po' della vita di Harry Powers. A proposito, noi per i serial killer cerchiamo sempre di andare a scoprire il passato per trovare quel famoso punto di non ritorno. Ma diciamo che qualcosa sappiamo sulla sua infanzia, come giustamente ha ricordato lei, Harry Powers, anzi Armdrent, è il figlio di immigrati olandesi che si stabiliscono prima nello stato dell'Iowa e poi si trasferiscono nella Virginia occidentale. Il padre è un agricoltore, solamente che Armdrent, o meglio al secolo Harry Powers, d'ora in poi lo chiameremo così, non vuole fare la stessa vita del papà, non vuole condurre un'esistenza fatta di stenti e privazioni, anzi cerca di tenere o di raggiungere un tenore di vita molto alto e cerca di trovare tutti i modi che gli consentano di arrivare a quel livello. All'inizio però non sa bene come fare. Inizia a migliorare la sua esistenza e soprattutto le sue finanze attraverso il primo matrimonio, che poi è l'unione che lo porterà fino alla fine dei suoi giorni. Tant'è vero che nel 1927 sposa Lualla Storter, che conosce proprio attraverso il modus operandi con cui attirerà le sue vittime. Cioè attraverso degli annunci matrimoniali su una rivista riuscirà a conoscere questa ragazza che tra l'altro è figlia di un proprietario di un emporio agricolo e quindi gli consente di migliorare le sue finanze e di raggiungere un notevole stato di agiatezza e poi capisce che da lì effettivamente può cercare di ricollocare questo modus operandi all'interno di un'azione criminosa e come vedremo molto efferato. Come altri serial killer simili che abbiamo trattato in passato, si tiene stretta la sua prima moglie, la sua unica moglie poi di fatto. Tra l'altro la sua unica moglie non sospetterà mai in verità quale sarà la doppia vita del marito. Il concetto di insospettabilità oltre a essere suffragato dall'incredulità della moglie quando poi emergeranno delle prove assolutamente inoppugnabili è sottolineato e si evidenzia anche nella considerazione che avevano tutti coloro che lo conoscevano, che lo consideravano un uomo assolutamente mite e pacifico fino poi a conoscere quello che aveva commesso, soprattutto a danno di donne tratte con l'inganno e poi uccise barbaricamente. Ho peraltro trovato nel preparare questa puntata che dai dati postali successivamente emerse che Harry Powers riceveva dalle 10 alle 20 lettere al giorno in risposta alle sue inserzioni. E questo fa pensare che effettivamente il numero di vittime sia molto maggiore. Addirittura alcune fonti, nonostante come giustamente ha ricordato lei, sono cinque vittime ufficiali che poi decreteranno quella che sarà la sua fine e che spiegheremo dopo, addirittura ci sono delle fonti che ne sospettano 55. E lo stesso lascio intendere che siano di più. Sì perché una volta arrestato durante un interrogatorio davanti all'incalzare del commissario Grimm che gli chiedeva e soprattutto lo obbligava a rivelare quali erano stati tutte le sue vittime e soprattutto qual era il numero preciso, pensando anche lui che fossero in verità 55 e non 5, lui rispose con una frase serafica e al tempo stesso inquietante. Disse io i miei cinque omicidi li ho ammessi, cosa ti interessa degli altri 50? E questo lascia intendere che possano anche essere molti di più. Proprio per compiere questi atti terribili costruire un apposito garage. Cioè quindi premeditò il tutto? C'era assolutamente un'azione che era preceduta da un'attenta pianificazione. Lui aveva questo garage che vediamo qui nelle immagini, nella sua casa nella Virginia occidentale, che al di sotto del pavimento aveva quattro vani, quattro altri locali, che poi saranno lo scenario dei ritrovamenti che ne decreteranno la colpevolezza e l'autorialità di quegli omicidi, il cui modus operandi sarà ritracciato proprio attraverso l'esame autottico fatto sulle vittime. E infatti dopo l'arresto che avvenne nel 1931, la polizia scoprì attraverso le sue impronte digitali e le fotografie che era stato incarcerato già di fatto precedentemente sotto il suo nome originale per furto con scasso, un episodio che risaliva al 1921-1922 nella contea di Barron, nel Wisconsin. E sebbene non incriminato, Powers fu sospettato nel 1928 di essere coinvolto nella scomparsa di un venditore di tappeti con il quale aveva lavorato in passato e nel caso irrisolto dell'omicidio di Jane Doe a Morris nell'Illinois. Però questo omicidio non è stato attribuito a lui. No, tra l'altro... Il primo, il venditore di tappeti, è un uomo. La seconda è una donna, Jane Doe. Jane Doe è una donna. È il corrispettivo e l'omologo di John Doe. Quando non si conosceva l'identità delle vittime negli Stati Uniti era solito attribuire un nome fittizio che solitamente era quello di Joe o John Doe alle vittime di cui non si conosceva l'identità. Anche in quel caso, questo omicidio tra l'altro avviene nel Massachusetts, se non sbaglio, non si riuscì a risalire poi all'autorialità, ma c'erano degli elementi che riconducevano alla personalità di Henry Powers che in queste situazioni, come giustamente ha ricordato lei all'inizio della nostra conversazione, utilizzava un altro nome, che era quello di Cornelius Pearson. Ecco, proprio usando lo pseudonimo di Cornelius o Pearson, Powers cominciò a scrivere lettere a quella che è stata la sua prima vittima. Sì, la sua prima vittima era una vedova, Asta Eicher, che aveva tre figli, Greta, Anna, Belle e Herri. Riuscì a convincerla con ovviamente false promesse, promettendo di sposarla e di occuparsi dei suoi figli e soprattutto la convinse a fare un viaggio, a lasciare i suoi tre figli presso un'amica di famiglia, tale Elizabeth, e effettivamente partirono. Solamente che a ritornare fu solo Henry Powers. Diciamo che la scusa ufficiale fu che effettivamente si erano stabiliti in un altro luogo e che Henry Powers era tornato per occuparsi dei figli, per prenderli e portarli con sé dalla madre, però dopo un preciso episodio. Parliamo di questo episodio che ci riporta poi al momento. È assolutamente la scintilla scatenante di quello che poi risulterà essere è una delle prove inoppugnabili che ne decreteranno la colpevolezza, perché Henry Powers torna con una delega firmata dalla madre e chiede al figlio di ritirarsi in banca e di ritirare tutto quello che era il patrimonio della povera Asta Eicher. Solamente che quando il ragazzo si presenta in banca, il direttore di banca non accetta quel documento perché non riconosce la firma. A quel punto Powers, quasi impaurito di essere scoperto, decide di partire e dice a tutti che condurrà i figli da Asta Eicher in una località dell'Europa. Fatto sta che anche questa volta lui tornerà, ma non si saprà più nulla, né di Asta Eicher né dei tre figli. Ecco, ricordiamo il modus operandi che non è sempre lo stesso perché il figlio minore viene ucciso a martellata in testa. Sì, il figlio minore purtroppo subisce una sorte ancora più efferata, se così possiamo dire, perché poi quando verranno ritrovati i quattro cadaveri, anzi, i cinque cadaveri, perché poi ce ne sarà un'altra, di cui dopo parleremo, effettivamente Asta Eicher e le due figlie, Annabelle e Greta, verranno strangolate da Henry Powers. Questo almeno dirà l'autopsia. Mentre il povero Henry subirà quella sorte che ha appena raccontato lei. Purtroppo verrà ucciso con un corpo contundente, presumibilmente un martello sulla testa. Ecco, qualche tempo dopo, Henry Powers corteggia Dorothy Pressler-Lemke e qui siamo nel Massachusetts. Sì, Dorothy Lemke viene avvicinata nello stesso modo, quindi c'è quella medesima pianificazione attraverso un annuncio matrimoniale su una rivista, la conosce e la convince a prendere anche quelli che erano i suoi risparmi, circa 4 mila dollari, che per l'epoca era una cifra abbastanza consapevole. Periodo di depressione, non dimentichiamo, c'era stato nel 1929 il crollo della borsa di Wall Street. Tra l'altro. Qua però ci inizia a essere il primo errore di Henry Powers, o quantomeno quello che poi inizierà a svelare il mosaico di questa diabolica pianificazione. Il fatto che, nonostante avesse detto a Dorothy di spedire i suoi risparmi nel suo indirizzo ufficiale che si trovava nella prima casa, quella dei Trent, per capirci, nell'Iowa, effettivamente poi si viene a scoprire che il cosiddetto Cornelius Pearson ha come indirizzo di residenza un altro indirizzo che si trova invece nella Virginia occidentale. Questo ovviamente destò i primi sospetti della povera Dorothy, che poi rappresentarono un po' i presupposti di quella che fu la sua drammatica fine. E a un certo punto però tutti questi omicidi, almeno quelli accertati, cominciarono a venire alla luce. La polizia indagò sulle scomparse misteriose. Sì, indagò soprattutto sulle scomparse dei primi tre protagonisti della nostra storia, ossia di Asta Eker e dei tre figli. E effettivamente andando ad interrogare tutte le persone che secondo loro li avevano visti per l'ultima volta, all'interno di questa lista di persone c'era anche il nome di Cornelius Pearson. E quando capirono che effettivamente l'identità Cornelius Pearson, attraverso delle prove che si incrociavano e soprattutto attraverso lo sbaglio degli indirizzi di cui abbiamo appena parlato, l'identità effettivamente arrivò sino a quella di Harry Powers. E Harry Powers venne arrestato e fu costretto a subire ovviamente una perquisizione, una perquisizione nella sua casa, quella che aveva ovviamente... A Quaite Dell. A Quaite Dell, nel garage. Il garage venne ispezionato in maniera attenta, ma soprattutto venne distrutto il pavimento. All'interno del pavimento vennero trovati questi quattro ulteriori locali e all'interno di questi locali vennero trovate tutte quante le vittime. A Steyker con i figli che purtroppo vengono uccisi nel modo che abbiamo appena raccontato e addirittura Dorothy Lemke viene anche lei strangolata e viene trovata ancora con una cinta al collo. Eh sì, quella che era servita per strangolarla. E nel bagagliaio dell'auto di Powers vengono anche ritrovate delle lettere, aveva risposto a parecchie donne. Tutte quelle lettere che poi lasciano pensare che effettivamente il numero delle vittime sia molto maggiore. si stimò che Powers ricevesse all'incirca 10 o 20 lettere al giorno. E questo fece crescere in maniera esponenziale il numero delle ipotetiche vittime fino ad arrivare a quello di 55. Però le chiedo e mi chiedo se sono molte di più, dove le ha nascoste? Perché in casa c'erano solo quei 5 cadaveri nel garage. C'erano solo quei 5 cadaveri. C'è da dire che Harry Powers viaggiava molto. Quindi questo potrebbe essere assolutamente un elemento non trascurabile rispetto alla ricostruzione della vicenda. Noi, o quantomeno, le indagini al tempo si basarono su un'area geografica relativamente ristretta. Forse allargando il campo delle immagini e soprattutto andando ad analizzare da dove provenissero tutte quelle lettere magari si poteva capire dove potessero essere le altre vittime. E poi magari, sappiamo, no? Serial killer a scopo di lucro non necessariamente arrivano a promettere matrimonio alle loro vittime. Magari hanno la possibilità di uccidere per rubare. Lo fanno, lo hanno fatto in tanti. Ne abbiamo parlato in tanti. Quindi nel viaggiare potrebbe aver colpito in questo modo. Assolutamente, potrebbe aver colpito in maniera assolutamente circostanziale al momento. Molte, ovviamente, hanno subito la stessa sorte della Eicher e della Lemke sotto una falsa promessa di un matrimonio soprattutto in un periodo come giustamente ha ricordato lei in cui una donna lasciata sola dal marito era soprattutto nel caso della Eicher con tre figli era una donna molto probabilmente condannata alla povertà o comunque a un'esistenza difficile nel migliore dei casi. Molti sono giocati da quelle false promesse e dal carisma nonostante non fosse un uomo particolarmente fascinoso. Lo abbiamo visto, infatti stavo per chiedere. Come abbiamo visto, ma come lei ricorderà anche lo stesso Hugo Schenck con le domestiche viennesi non era considerato un sex symbol chiamiamolo in questo modo però riuscivano con altre capacità affabulatorie, carismatiche ad attirare all'interno delle loro grinfie delle ignare, molte volte vedove che con la promessa di un'esistenza più agiata e comunque più facile cadevano nelle braccia di questi assassini. Nel caso di Henry Powers molto probabilmente, ripeto facendo un rapido computo del numero delle lettere che riceveva è plausibile che effettivamente anche in altri luoghi degli Stati Uniti ci potessero essere delle altre vittime e delle situazioni omologhe a quelle che abbiamo appena raccontato. E poi ricordiamo fortunatamente oggi certe storie non terminano con l'omicidio ma sono tante le truffe d'amore come vengono ribattezzate con donne che vengono così in qualche modo i protagonisti di cui abbiamo parlato sono stati i pionieri anche in questo ovviamente non agevolandosi dell'utilizzo dei social network che oggi diffondono in maniera invasiva anche queste potenziali criticità questi potenziali pericoli al tempo attraverso un altro mezzo di comunicazione molto importante come la stampa riuscivano effettivamente a raggiungere delle persone molto lontane e quindi a ampliare in maniera notevole a livello numerico in questo caso il numero potenziale delle vittime o comunque delle persone truffate. Ah sì, all'epoca non c'erano i social network non c'erano le chat per cuori solitari ma c'erano queste possibilità C'erano delle agenzie matrimoniali che si occupavano di creare delle coppie molte volte ovviamente ci sono stati anche dei casi che effettivamente si sono risolti nel migliore dei modi ma che rappresentavano sicuramente un canale preferenziale anche per chi poi avesse delle intenzioni omicidiarie come il nostro protagonista. Come lo stesso Harry Powers di fatto la prima e unica moglie l'ha conosciuta così All'interno della esecrabilità di questa vicenda la prima moglie effettivamente è un rapporto che ha funzionato fino alla fine dei suoi giorni. Ecco, dopo l'arresto mentre era in carcere ci fu anche un episodio particolare con migliaia di persone circondarono la prigione della Contea dove era incarcerato Harry Powers dal 20 settembre del 31 chiedendo a gran voce che gli venisse consegnato per linciarlo. Sì. Non è la prima volta che accade o accaduto negli Stati Uniti sono stati diversi casi del genere. Ricordiamo anche la vigna Fisher in cui citammo appunto la provenienza l'etimologia del termine linciaggio il giudice Lynch che era un giudice particolarmente severo dedito alla giustizia sommaria o quantomeno termine che devia proprio dal giudice immediata. Esatto. In questo caso effettivamente lo stesso Powers fu oggetto obiettivo di questo tipo di comportamento addirittura intervennero i pompieri che prima con gli idranti e poi con i gas lacrimogeni riuscirono a disperdere la polla tuttavia Harry Powers fu trasferito da un carcere a un altro per essere controllato maggiormente e non essere ucciso dalla folla una volta venuti a conoscenza tutti i suoi efferati delitti. Infatti da Classburg poi fu trasferito a Mansville dove fu giustiziato e addirittura poi siccome un caso mediatico e quindi particolarmente seguito dalla stampa e dalla gente comune fu utilizzata la muro opera House proprio per far svolgere il processo visto che c'era un gran numero di gente che voleva assistervi quindi per l'epoca particolare la gente furiosa la gente che vuole assistere ricorda un po' quel guayerismo mediatico di cui abbiamo parlato tante volte che si avvicina all'aspettacolorizzazione del dolore e anche al sensazionalismo legato a questo tipo di vicende il fatto che ci fossero tre vittime tre bambini esatto quella è la componente emozionale che effettivamente ha scosso quel tipo di comunità ricorda un altro episodio che non riguarda un serial killer di cui abbiamo parlato in precedenti trasmissioni che è il processo Fadda che successe e accade a Roma nel 1879 in cui effettivamente le aule dei tribunali erano ricolme di gente che volevano assistere all'evoluzione di quel tipo di processo anche in questo caso in termini connotazioni e soprattutto dimensioni omicidiarie completamente diverse furono costretti ad adottare un locale molto grande per ospitare tutte quelle persone che avevano sede di giustizia processo che non fu lunghissimo in cinque giorni si arrivò alla sentenza cinque giorni bastarono per il giudice Sautern affinché pronunciasse la sentenza di impiccagione che però verrà eseguita diversi mesi dopo il 18 marzo del 32 questo è un disegno dell'epoca che ricostruisce l'impiccagione di Harry Power e in quell'asso di tempo effettivamente Harry Power rimase in quel carcere tant'è vero che credo ci siano delle foto che lo testimoniano e delle foto molto particolari che evidenziano ecco questa è una assolutamente semplificativa sembra che abbia gli occhi come no come fatti perché molto probabilmente ha subito le violenze che sono riuscite a evitare al di fuori del carcere lui le ha subite all'interno del carcere perché effettivamente vediamo una fisionomia completamente trasformata rispetto alle prime foto o quantomeno alle foto segnalette ricordo il giudice John Sautern sentenziò è sentenza di questa corte che lei si è portato nel penitenziario di Mansfield colà trattenuto e trattato come previsto dalla legge e quindi appeso per il collo fino al decesso il 18 marzo 1913 tra l'alba e il tramonto e tutto questo poi fu eseguito fu eseguito la mattina alle 9 il boia mise il cappuccio sulla testa di Armdrent o Harry Powers nato Armdrent poi diventato Harry Powers e infine Cornelius che usava gli chiese se volesse dire un'ultima frase lui rifiutò fu impiccato il boia fece cadere la botola per far sì che si eseguisse l'operazione nell'immediatezza del momento e dopo 11 minuti il medico ne decretò il decesso la morte da quel momento iniziò la vicenda esistenziale alquanto esegrabile e sanguinaria di Harry Powers e poi come giustamente ha ricordato lei all'inizio della trasmissione qualche anno dopo inizierà invece la narrazione culturale cinematografica e prima ancora letteraria e allora rivediamo anche ecco questo il libro di Davis Grabb The Night of the Hunter dedicato proprio alla vicenda di Harry Powers che poi ha ispirato il film con un grandissimo attore come Robert Mitchum proprio nella parte di Harry Powers due persone completamente diverse la bellezza di Robert Mitchum rispetto al diciamo così un personaggio un po' significante come molti dei serial killer che abbiamo trattato la cosa particolare che mi sento di sottolineare ecco qua c'è il parallelo è che effettivamente la traduzione non letterale del titolo del film The Night Hunter insomma che non è poi la morte corre sul fiume ma nell'immaginario è questo perché non c'è un fiume però tante volte il fiume invece è stato protagonista delle nostre storie perché poi ha rappresentato come dire l'ambiente lo scenario che ospitava le vittime dei serial killer ed è paradossale che anche in questo caso pur non entrando affatto nella vicenda di Harry Powers venga ricordato all'interno della narrazione cinematografica e fa lasciare così presagire che magari possa essersi disfatto di qualche corpo utilizzando qualche fiume della Virginia per chiudere il consueto profilo con il professor marino d'amore di questo personaggio particolare che diciamo comincia a uccidere dopo che si è sposato ha cercato una persona benestante per sistemarsi e poi comincia a pensare di farne proprio una sorta di affare sì come abbiamo detto si può assolutamente categorizzare all'interno dei serial killer a scopo di lucro sicuramente è un serial killer organizzato che pianificava molto le sue azioni amicidiarie un incompetente sociale in questo caso ritorna sempre il comune denominatore dell'analfabetismo emotivo il fatto di non riuscire a metabolizzare e soprattutto a decodificare le sofferenze altrui non solo quelle fisiche ma anche quelle morali il fatto comunque di truffare delle povere donne con false promesse è assolutamente riscontrabile all'interno di questa analisi non esiste nessuna parafilia sessuale perché non c'è stata nessuna violenza assolutamente ed è un anche questo è un comune denominatore per tutti quelli che sono per la maggior parte dei serial killer a scopo di lucro c'è un'evidente misoginia ma quello si evince dalla narrazione e dal racconto che abbiamo appena fatto i bambini eliminati perché scomodi i testimoni esatto e là si riscontra ancora di più l'analfabetismo emotivo perché l'emozionalità dovrebbe emergere soprattutto poi con gli esseri indifesi e con le categorie deboli altro elemento da considerare è il fatto di questa sua bipolarità non psichica ma apparente rispetto a questa doppia vita che viene celata e che nasconde le più esegrabili innefandezze sotto la coltre di una esistenza pseudonormale fatta con una donna la moglie che aveva questo emporio agrario e che rappresenta quasi un elemento di continuità con il lavoro della famiglia e che era quel lavoro quell'esistenza che lui invece rifiutava con tutte le sue forze e così siamo giunti al termine di crimini e criminologia di oggi nello specifico della galleria degli orrori dedicata al serial killer Harry Powers grazie al professor Marino D'Amore ci ritroviamo per un altro capitolo interessante a proposito di questi mostri grazie a voi io ricordo che il professor D'Amore poi nel narrare la storia di Harry Powers ha fatto riferimento a tanti altri serial killer che abbiamo avuto modo di trattare qui a crimini e criminologia e tutte le puntate precedenti con tutti i serial killer che fino a oggi abbiamo trattato praticamente uno a puntata tutte le puntate della galleria degli orrori le trovate sul canale youtube di Cusano Italia TV ha citato Lavinia Fischer se cercate appunto lì si parla anche di un fantasma cercate andate sul canale youtube scrivete Lavinia Fischer e uscirà proprio la puntata dedicata a questo serial killer così come tutti gli altri mi scusi l'interrompo Lavinia Fischer prima di salutare gli astanti davanti al suo patibolo disse una frase molto evocativa e ricordiamolo tra poco se qualcuno di voi ha da dire qualcosa me la dica adesso perché tra poco incontrerò il diavolo per dirgliela personaggio particolare Lavinia Fischer anche là indietro nel tempo anche più in là rispetto a Henry Powers quindi questo per dire tutte le puntate le trovate sul canale youtube di Cusano Italia TV così come tra poco trovate la puntata di oggi se vi siete persi i primi capitoli il primo in maniera particolare devo dire una nostra esclusiva grazie a Paolo Cocchi a proposito dei nuovi clamorosi sviluppi legati alla vicenda del mostro di Firenze trovate subito questa puntata sul nostro canale youtube grazie a Manuel Mazzei che ha curato la regia ringrazio Daniele Loda Claudia Di Fonzo e Sofia Puppo che hanno lavorato in post produzione se volete scriverci info chiocciola cusanoitaliatv.it grazie e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti